Buonasera cari telespettatori, bentrovati e benvenuti negli spazi dedicati agli approfondimenti. Ospitiamo nuovamente per la seconda volta un altro protagonista alla corsa per il primo cittadino per la poltrona da sindaco il candidato per la sinistra per Fano Teodosio Auspici candidato a sindaco proprio con tutta la pattuglia della sua lista che abbiamo conosciuto nei giorni passati e anche nel precedente incontro in cui abbiamo un po' delineato anche il perché della sua scelta e della scelta di presentare questa lista la sinistra per Fano. Allora nell'altro incontro Auspici c'era stato ben chiaro il concetto che la programmazione è uno dei vostri punti chiave, cioè voi credete fortemente che per raggiungere determinati risultati riuscire a avere una progettualità a lungo termine sia necessario programmare. Questo è secondo lei insomma uno degli asset nei quali l'amministrazione dovrebbe investire molto? Sì, buonasera a tutti, innanzitutto ben trovato Lino. Già l'altra volta siamo partiti dalla programmazione, la programmazione perché vuol dire mettere in piedi tutti quegli interventi che vanno a beneficio della città, quindi sappiamo che le amministrazioni pubbliche hanno dei tempi, quindi è fondamentale avere dei progetti nel cassetto per portarli avanti. Oggi vorrei un attimino partire appunto da quelli che sono stati anche gli interventi in questi cinque anni fatti da questa amministrazione, soprattutto come risposta a quello che insomma il sindaco Massimo Seri va un po' dicendo in questa campagna elettorale del monte degli investimenti portati in questa città che inizialmente erano 160, poi 150, ogni 10 giorni calava di 10 milioni, però insomma più o meno delle cifre importanti. Ora intanto va detto che, va riconosciuto che ovviamente alcuni investimenti sono stati fatti, come però va anche ricordato che c'è stato anche lo sblocco del patto di stabilità, quindi c'è stata anche la possibilità di poter spendere, cosa che in precedenza invece non c'era stata. E quindi io vorrei un po' ricordare, partire da un nostro studio che abbiamo fatto con lo staff insomma in questa campagna elettorale e noi abbiamo preso in considerazione quelli che sono gli appalti pubblici che hanno avuto un esito positivo, diciamo, le gare che sono andate appunto avanti presso il comune di Fano. E il dato che risulta, che ne viene fuori, e l'abbiamo preso dal sito del comune, quindi un dato ufficiale per l'amministrazione trasparente, è che stiamo parlando di 30 milioni di euro. Quindi è chiaro che è sostanzialmente diverso rispetto a quello che si è detto e più precisamente, mi piace anche un po' dare qualche numero, abbiamo un 2014 dove ci sono 600 mila euro, circa, poco più di 600 mila euro, ma diciamo il primo anno, insediamento, ci sta l'eredità dell'amministrazione precedente a livello di progetti era scarsa, non hanno lasciato niente, questo va detto, perché grande responsabilità della situazione attuale è anche dei 10 anni di Aguzzi, però il primo anno sono 600 mila euro, di cui 400 l'intervento su Santa Arcaggio. Nel 2015 sono già 3 milioni, qualcosa di più si è fatto, dove però circa un milione è solo per il dragaggio del porto. Nel 2016 e nel 2017 siamo intorno ai 10 milioni di euro e quindi lì si è cominciato un po' a macinare, però va ricordato che nel 2016 una metà circa sono le asfaltature e sappiamo qual era la situazione grave e qui ritorno insomma alla responsabilità anche precedenti. Nel 2017 queste 10 milioni, una metà sono della scuola di Carrara. Ecco, poi nel 2018 4 milioni, nel 2019 1 milione e 8. Quindi quando io sento dire 160-150 milioni di investimenti è un'operazione anche verità, bisogna dirlo com'è, anche perché un comune non ha tutta questa capacità di investimenti, però c'è anche da ricordare che il comune quest'anno ha chiuso un consuntivo con oltre 20 milioni di avanzo e questo non è un bene, non è vero che è un bene, perché il bilancio del comune deve chiudere in pareggio e quindi vuol dire che tu non hai fatto gli investimenti, i progetti che potevi fare, quindi io non mi vanterei troppo. Quindi complessivamente questa partita diciamo l'andrei un po' a smontare. Ecco, poi dopo è chiaro che si possono mettere e aggiungere le opere compensative, gli investimenti di Aset, però bisogna dirlo, bisogna dire che sono investimenti che ha fatto qualcun altro, perché le opere compensative che vengono valutate sopra 60 milioni, voglio dire, però non c'entra niente con l'attività del comune. Potevano capitare oggi come potevano capitare a un altro sindaco, quindi bisogna essere un po' corretti quando si danno dei numeri. Quindi questo è il nostro punto di vista e in più bisogna fare degli investimenti anche fatti nel modo giusto e qui la programmazione proprio non c'è stata. Ho detto un po' quelli che sono gli interventi maggiori, si vede che si è andato un po' a spot, non è che tranne la scuola di Cucurano che ha un respiro magari un po' più lungo, sicuramente pregevole, come dire, gli altri sono state più una gestione dell'emergenza, perché Porto, asfaltature, adesso c'è anche il pincio qui dentro, 800 mila euro che è stato inaugurato proprio sotto campagna elettorale che non è manco un massimo, però detto questo non c'è stato un progetto, un'idea di città dove si voleva andare e questo è molto grave. E gli investimenti vanno fatti per durare, si chiamano, no, io sono un imprenditore, quindi l'investimento deve essere duratura nel tempo. E qui, insomma, un richiamo alla cronaca di questi giorni, sicuramente non si costruiscono ponti perché si devono poi, devono poi crollare, ecco via, questo è un piccolo sassolino che mi voglio al ponte sull'azienda. Sì, perché oltre che è un danno erariale perché i soldi sono spesi, ma soprattutto io, è una questione di sicurezza, perché sopra un ponte purtroppo bisogna pensare sempre al peggio, ci può essere una bravata, ci può essere qualche ragazzotto che va a vedere, cioè poi quando viene giù un ponticello e succede una tragedia, poi dopo ci si accorge sempre dopo. Insomma, quindi bisogna pensarli bene. È un esempio proprio per dire che bisogna programmare bene. Non abbiamo visto questo approccio. Allora, è emblematico il fatto del passaggio sull'Arzilla perché, penso, notizia di queste ore, che la programmazione e partite forse slitterà un po' il termine di fine maggio. Sì, certo, poi c'era bisogno di arrivare fino ad oggi. Vabbè, uno magari ha rischiato che voleva tagliare il nastro poco prima delle elezioni, lasciatemelo dire, gli è andata male, ma gli è andata molto male. In realtà è più di un anno che abbiamo questa situazione e quindi si poteva assolutamente intervenire prima. Si doveva intervenire prima. La sanità è un altro settore dove sicuramente la programmazione entra ancora maggiormente più in evidenza perché anche qui, secondo voi, programmazione non c'è stata. No, non c'è stata. No, qui anche qua si cerca di dribblare la problematica, non si è chiari. perché quando si entra in questo argomento, che evidentemente è un punto di caduta del centro, sinistra adesso comunemente, ma io dico centro, diciamo, della coalizione di Seri, è un punto di caduta perché è evidente che ha messo d'accordo tutti, come ho detto già l'altra volta. Ed è altrettanto la risposta che ci viene data, ma sa il comune, la competenza della regione. Anche qui bisogna far basta di dire queste bugie. Cioè è chiaro che è competenza della regione, però come abbiamo avuto modo anche di dire in altre occasioni, se il comune di Fano non faceva la variante per la clinica privata, la clinica privata non viene fatta. Se il comune di Pesaro non faceva la variante per fare l'ospedale a Muraglia, l'ospedale non lo puoi fare. Quindi è chiaro che siamo all'interno di un progetto condiviso e nel momento in cui tu lo appoggi vuol dire che sei assolutamente d'accordo con quel modello di sanità. È un modello di sanità che va verso il privato, che smonta il pubblico a favore del privato, che io non lo demonizzo. Però deve essere chiaro che quello è il progetto dove uno vuole andare. In più, visto che abbiamo parlato di ponti che crollano, io aggiungo anche, lo vogliamo andare a fare in una collina franosa, con rischio sismico, esondazioni, 50 metri d'altezza, un miliardo di costi in 30 anni, l'impegno con questo scelerato sistema del project financing, finanza di progetto in italiano, che mi piace alla follia. E quindi sulla sanità è una partita assolutamente determinante, come sinistra per Fano è la nostra bandiera, perché poi bisogna tracciare una linea chiara, oltre alla quale non si può andare. Noi abbiamo messo questa linea proprio sulla sanità, sulla sanità pubblica, ed è una ragione, una delle tante, ma grandi ragioni, per le quale ci siamo candidati con una nostra lista, anche in modo coraggioso. Anche l'acqua è un bene pubblico. Certo, anche qui riandiamo tutta la partita dei servizi, cioè c'è continuità, c'è coerenza. Io voglio dire, abbiamo detto l'altra volta, PRG precedente, che abbiamo criticato anche come centro-sinistra, quella volta c'ero sicuramente anch'io, e poi non si è fatto niente, si è mantenuto lo stesso sessore, quindi io adesso con tutto rispetto, però la continuità mi sembra evidente, non hai posto rimedio. Quindi, politicamente è chiaro, se io non faccio dei correttivi vuol dire che mi sta bene, e te ne devi assumere responsabilità. Sulla sanità, scusate, sui servizi e anche su Aset, anche qui un bilancio che chiude con diversi milioni di euro di utile, con pagamenti anche di tasse di un paio di milioni di euro, voglio dire, anche qui, è una società pubblica, i benefici degli utili, quindi della buona gestione, che così deve essere, di questa società, devono andare a chi? Devono andare alla collettività, quindi bisogna abbassare le tariffe, ma non c'è stato questo approccio, perché in realtà con tutta la partita del caro bolletta mi sembra che si vada verso un'altra direzione, cioè una direzione aziendalistica, un'aziendalistica tendente al profitto e quindi, come dire, il servizio pubblico viene pian piano svuotato dei suoi contenuti universalistici e dopo la gente non lo riconosce più e questo è un dato molto comune, che ha comune, voglio dire, le multiutility come Aset, ma abbiamo già detto la sanità e quindi vuol dire che il progetto politico è questo, è andare verso una privatizzazione di tutti quelli che sono i maggiori servizi alla collettività, anche perché sono in tempo di crisi, adesso faccio un po' l'imprenditore, sono anche quei settori dove ancora c'è un po' di guadagno e questo la dice lunga di cosa si mette prima, il guadagno o l'interesse collettivo. Certo. La sinistra per Fano, perché questo nome è così evocativo, la sinistra per Fano? Ma io ho cercato in questa campagna elettorale che è alle battute conclusive di avere appunto un approccio molto pratico come sono fatto io, mi piace trasmettere insomma quello che uno è, la verità, quello che sei, no? E di due slogan devo dire che mi ci ritrovo appieno. Intanto nel simbolo centrale c'è il per, ed è quel per, cioè l'essere al servizio di qualcosa che richiamavo un po' prima, chiaramente è al servizio della collettività, del cittadino, del territorio, il territorio che non è solo Fano perché i campanilismi per carità bisogna batterli, lo dirò sempre, è al servizio di qualcun altro, di tutti noi, non è che non sono un professionista della politica, da altre parti ci sono professionisti della politica come nel centrosinistra diciamo così, con anche iniziative di liste del tutto personali, anche ad hoc, costruite ad hoc perché adesso va di moda a fare mille liste civiche per poter prendere più voti e quindi come dire il per è evocativo in questo senso e poi c'è la sinistra non si dice ma si fa e questo altrettanto è il senso pratico, noi dobbiamo farla la sinistra e qui il voto utile per noi che io oggi come dire chiudo con un appello al voto per le nostre ragioni d'essere, noi ci siamo candidati e io in prima mi sono messo in questa difficile anche competizione perché non si può soltanto enunciare a parole tante cose, magari anche evocando voglio dire idee o emozioni di sinistra per poi assolutamente disattenderle, la gente non ci crede più ed infatti voglio dire poi non si può, non si può piangere sul lato e versato e dire che magari c'è un voto di destra e quindi bisogna come dire votare il centro-sinistra perché c'è la destra, qui bisogna votare le persone che dicono e che fanno quello che dicono e se uno governa male oppure dice delle cose che poi non le fa è ovvio che la gente si rivolge a qualcun altro. Noi il nostro progetto è proprio questo, il nostro appello pensiamo che è il vero voto utile, è il voto alla sinistra per Fano in quanto persone come dicevo prima mosse da passione e da spirito di servizio sono presenti in tutte le sfaccettature della società, abbiamo cercato anche di rappresentare vita reale con i commercianti, l'operaio, il professionista, l'artigiano, l'impiegato pubblico, il docente, cioè fino anche l'imprenditore che è il candidato sindaco proprio perché siamo convinti che dobbiamo riandare a parlare e a rappresentare una grande effetto della nostra società. Bene, la sinistra per Fano, candidato a sindaco Teodosio auspici, quindi grazie, lo abbiamo ospitato in questo spazio di approfondimenti, concetti chiarissimi e quindi insomma anche l'appello al voto finale chiarisce il perché di questo ragion d'essere di questa lista e della sua candidatura. Grazie anche a voi per averci seguito, buonasera e buonasera a tutti voi a casa che ci avete seguito. Alle prossime!